Te lo dico sotto voce, ma secondo me la tua canzone è l'unione. Secondo me, io l'ho detto anche alla bambina che c'era prima, che cantava le tue canzoni e poi è stata finita, ma secondo me la tua canzone è l'unione. Prego, vero? Ma te lo dico, secondo me, gli altri, o un parere personale, secondo me le tue canzoni fanno scritto. No, fanno scritto con le altre canzoni. E poi come le cantono? No? Le hai sentite tu? Più o meno, sì. E come erano? No, dipende. Cioè, vabbè, qualcuno un po' più era, ma altri... no? Tipo quelli... Quelli più... Sì. Vabbè, vero? Per te? Sì. Vabbè, no? Poi... Vabbè, buono. Mi stanno capendo. Te? Un po' condipendere come ti fa. Esatto. Cioè, a volte è simpatico. Poi anche tutti gli altri, quindi anche sono interessanti. Vabbè? Quanti. Quasi tutti, vero? Cioè, proprio io, lo zucchino lo farei solo con te. Anche tu? Vabbè, bene. No, no, stai dritto. Anche tu lo faresti solo con te o no? Cioè, uno dice, signore, è congelica che canta la prima canzone. Canti, vai fuori. Signore, signore, è angelica, ci canta la seconda canzone. Vabbè? Cambia canzone, ma le canti tutte tu. Vabbè? Ok, grande, mi fa cucciare questa seconda canzone.